Ciao ragazzi, vi provo di questo nuovo video siamo tornati con la carriera sulla salinitana ma vi siete iscritti ragazzi vi ricordo di iscrivervi di lasciare un bel mi piace basta un click ragazzi, bastano due click altivano anche la campanellina e così non mi perdete i miei nuovi contenuti è tutto completamente gratuito quindi è gratis ragazzi, fatelo mi raccomando, mi fate contento seguitemi anche su instagram e anche quello è gratuito quindi questo vi chiedo ed è tutto gratis quindi non vi costa nulla siamo tornati appunto con la salinitana e vediamo la classifica voglio vedere anche un po' di statistiche poi andiamo a giocare contro il Minan Minan che si trova al quarto posto con 52 punti, noi siamo al quattordicesimo con 30 punti, però abbiamo due punti alla Sampadoria cioè gli stessi punti al Sassuolo che ovviamente non ha subito tutti quel che abbiamo subito noi quindi avanti c'è il Bologna a 32 quindi a meno 2 dalla dodicesima posizione sapete già obiettivo decimo posto perché vi dico questo perché siamo la strada attuale nostro è debole nella nostra panchina perché siamo al cotto decisivo posto e non siamo a metà classifica l'età media di 25 8 la vogliono più alta insomma un obiettivo anche un po' stupido permettete perché chiaramente non posso fare una squadra di calciatori comunque troppo quella con gli anni e poi vabbè siamo usciti in Coppa Italia questo sicuramente va a inficiare sul nostro Stato ricorderete siamo usciti col Parma poi tante sconfitte tanti gol subiti però insomma siamo in ripresa l'ultima partita abbiamo pareggiato contro il Monza abbiamo perso altri punti per la strada però abbrosa cosa volevo farvi vedere un po' i numeri le statistiche dei ragazzi come si stanno comportando allora vabbè questi sono tutti calciatori bello si è buggato perché mi dà tutto 0 bene così torniamo indietro e vediamo se vi fa vedere le statistiche adesso si 0 1 rete in violata per Ochoa 2 per consigli vabbè ma allora su 19 presenze quindi buono comunque per il momento Ochoa abbiamo Albrache abbiamo Olivera con una rete Bradaric 1 gol Fazio 2 gol Mazzocchi 2 gol Radovanovic 1 gol ma qui siamo ai difensori quindi poi andando avanti troviamo Candreva con 2 gol e 3 assist Colpani con 3 gol e 2 assist 14 presenze ma giustamente conta anche quelli con il Monza Pereira 3 rete e 2 assist in ripresa in ripresa per Eila ragazzi Maggiore con 2 assist Miretti con 4 assist non male ragazzi 11 presenze da poco è diventato titolare 2 gol e 6 assist per Frank Ribéry sempre il suo apporto 11 reti per destro ma 0 ancora con la nostra maglia infatti con Lempoli Bonazzoni 2 rete e 2 assist considerando che non è un titolare un po' così però vanno più che bene 1 gol anche per il re Christofferson 13 gol e 6 assist per Dià ragazzi lo voglio riscattare a tutti i costi 6 gol e 5 assist per Piontek nemmeno poi così pochi 0-0 per Valencia ma nessuna presenza per lui e quindi ci sta e tra l'altro è in prestito l'abbiamo mandato in prestito allora andiamo alla partita col Milan lo perdiamo altro tempo il mercato ragazzi come sapete si è chiuso però c'è qualcuno che ci lascia ed è Consigli che va in prestito per due anni al Bologna sarà divertente affrontarlo se dovesse giocare chiaramente ma penso proprio di sì e eccoci qui siamo arrivati alla partita col Milan post in arrivo ci diranno che Consigli ci hanno lasciato e babane così andiamo alla partita col Milan vediamo il Milan chi schiera schiera Giorginio di nuovo tutto il resto sono calciatori che già c'erano occhio a Dio Zlatan Ibraimovic Fazio Olivera sono tutti quasi al 100% Fazio Olivera e Mazzocchi con la lucidità meno uno solite cose di FIFA no sense considerando che sono comunque i titolari stanno giocando solo nell'ultima partita li ho fatti riposare verranno fatti tanti acquisti nel mercato di giugno e luglio se non è che ce l'hanno erato prima chiaramente ma sono calciatori troppo in lago gli anni e comunque la serie di calciatori in prestito anche Liberi si ritraverà quindi nei prossimi episodi ragazzi continuate a supportarmi perché questa è una serie che porteremo fino alla fine comunque fino a FIFA 24 quindi sono ancora tanti insieme i soldi e dobbiamo portare questa squadra più in alto possibile siamo partiti Mazzocchi sulla fascia spinge Ibra prova a seguirlo ma è inappressabile Mazzocchi prova il cross Mazzocchi dentro Piontek Calone Brandiaz Maggiore a te ordine Diretti adesso Mazzocchi col sinistro questa volta non ci arriva nessuno occhio Florenzi lo spazza spazza però di testa Olivera lotta Messias fallo di mano il nostro però abbiamo i terci ragazzi che praticamente diventano degli attaccanti aggiunti perché spingono tantissimo armi a doppio taglio perché poi possono lasciare degli spazi Giorginio Pereira in recupero l'ho detto ragazzi che Pereira in ripresa la perde ma la valle ancora nostra mamma che poi alla fine è diventato il titolare perché non è arrivato il difettore centrale che cercavamo sia Luqueba ma perché non siamo riusciti a vendere nessuno occhio però eh attacca il Minan Rai Diaz campioni di Italia uscenti ragazzi quindi andiamo a fare attenzione Maggiore può spingere alza la palla ma perché non c'erano molte idee Mimba Mamba prima di Neao che poi commette fallo un attimo di esitazione perché non sapevo se effettivamente avesse preso il pallone Tonani ferma Piontek senza fallo è difficile ragazzi costruire contro questi giocatori di qualità occhio a Leao Raffaele dentro palla che passa segnato Tonani visto una serie di deviazioni la segna Sandro Tonani vediamo allora Neao supera secco Mazzocchi poi il cross dentro colpisce spezzandosi la gamba Tonani e vediamo bello bello questo gol proprio fortuito segnato Nali e siamo sotto al diciassettesimo e siamo costretti già a rincorrere non un buon inizio per noi Miretti va verso Pereira che allunga verso Olivera occhio che lui in fase offensiva è molto importante Olivera cross dentro Piontek di testa era solo ma impreciso cross che è passato di testa Piontek da solo ma la mette a lato faccio sta pensando al risino un po' come tutta la nostra squadra quando si mi dà si lamenta che abbiamo la squadra troppo giure occhio Ribéry Sbaglia Maggiore Pereira verso Piontek niente da fare c'è Kier occhio alleao c'è Ribéry bagna il passaggio ancora a destra Tonali Kier bravissimo Piontek per ora e pallone DIA la parata del Mignano deve portarla più avanti Olivera al corner troppo su Mignano occhio il Mignano può ripartire velocemente palla su Kalulu rischiano un po' costruendo dal basso ma si la butta direttamente fuori stiamo cominciando a giocare di nuovo Pereira si allunga la palla Pereira col destro per il Mignano quanto meno facciamo capire al Mignano che ci siamo ragazzi davanti al nostro pubblico non dobbiamo fare brutte figure occhio però Messias Olivera ci arriva quasi occhio tacco di Tonali mamma mia fuori di un soffio ma quasi un trequartista per l'abilità che ha per arrivare sotto porta Piontek non c'è fuori gioco si gioca allora occhio Dest che va su Mignano Kalulu mi smaglia in un passaggio Tonali Dest bravissimo Maggiore che strappa il pallone Piontek via destro colpisce Kalulu ancora Kalulu quando al piede ma che passa poi Pereira Piontek perde il pallone Lorenzi sotto lo sbaglio Messias Brahim non perdono un pallone ragazzi Brahim vince contro un mamma e vince il contrasto Mazzocchi di prima Pereira via palla lunga che non passa però occhio Messias in orizzontale Tonali Liberi arriva prima Ibraimovic che rimane a terra blocca un braccio il fallo di Mbamba ma si continua perché non perdono un pallone Dest Mazzocchi senza fallo Mazzocchi ancora avanza Braindiaz non molla però Mazzocchi col destro ma è un cross troppo su Mainland si conclude il primo tempo 1-0 per il Milan eh ragazzi dobbiamo dobbiamo cambiare qualcosa nell'atteggiamento perché mi fido per il momento degli interpreti che comincia il secondo tempo ma chi ragazzi non è che abbiamo questa ampia scelta sicuramente noi acquisti hanno rinforzato la rosa ma non so fino a che punto Milano che ricomincia gestendo ancora sbagliare un passaggio di A Piontek torna indietro verso Olivera scambia con Pereira Olivera ancora ha la polla sul sinistro cross ma non c'è nessuno una partita che sicuramente non potete perdervi live qui su EATV da accettare i brain non ci si riesce c'è il fallo calù brain diaz supera fazio supera anche bamba occhio brain diaz palo rete 54 2-0 per il Milan sulla ribattuta non è andato nessuno tutti lì tutti lì 2-0 ragazzi il Milan è superiore c'è poco da fare passeremo all'ultra offensivo perché dobbiamo provare quanto Milan da accorciare le distanze Pereira supera tutti va al cross di sinistro e Piondeck non ci arriva divisa del Milan che spazza poi c'è ancora brain diaz sembrano fermarsi ragazzi nesta tonali primo recupero di maggiore suggeri e poi però perdiamo palla tonali messias brain diaz ibra imunice fazio diaz sbaglia torniamo da fazio viretti 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 allarga verso Rivera stop conclusione megnani ragazzi è arrivato il momento di fare dei cambi prima passiamo oltre offensivo e poi facciamo i cambi allora dia rimane Piondeck fuori dentro dentro destro lo proviamo cioè l'abbiamo già provato ma lo proviamo titolare Ribéry mi dispiace ma nonostante la sua qualità va cambiato Pereira anche anche purtroppo e faccio entrare anche colpani al posto di Miretti maggiore intanto è diventato un 80 non me ne ero nemmeno accorto e andiamo così per il momento poi abbiamo un altro cambio a disposizione va cambiato ragazzi tutto il fronte d'attacco per provare la rimonta occhio a Giorginio Messias bravo Pereira cambiati 4 giocatori quindi 4 dei 5 cambi effettuati occhio ancora Brain Diaz allarga verso Messias palla dentro Fazio la recupera poi se la perde con fallova vantaggio per ripartire colpani portapalla colpani ha visto Bonazzoni che prova il cross ma va a destra proprio questo cross poi Milan fortunatamente ci regala questa riesta adesso esce Messias e Torrejvic non so effettivamente se sia meglio o peggio occhio maggiore destro palla alta Mignan su riscola dal basso ancora Florenzi presso il DDA che induce quasi all'errore poi spazza Mignan Giorginio di tacco su inizio assurdo Ibrahimovic verso Rebic che fresco di vera no però Ibrahimovic ancora Rebic all'alta Leo al volo palo mamma mia fenomenali proprio occhio Rebic ancora Rebic Rebic alza il pallone Ibrahimovic al 79 c'è anche il 3-0 di Zlatan Ibrahimovic e qui abbiamo sbagliato noi perché siamo andati su Rebic lasciando Ibrahimovic solo e non perdona da lì destro verso Borazzoni Pinta va da solo prova a spostarsela sul destro ma Florenzi lo ferma Rebic poi la regala a Borazzoni col destro dentro ma non ci arriva nessuno Ibrahimovic Braindians occhio tutta la difesa è stremata quindi non riusciamo a leggerli Neau 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 4-0 4-0 Rafa e Neau Mancava effettivamente solo lui all'appello a questo punto ragazzi sfrutto anche la quinta sostituzione ho superato tutti ma sono stremati e quindi non so nemmeno chi togliere perché poi se non togliere magari Fazio magari togliamo un Bamba tanto poco cambia ragazzi devo pensare già alla prossima partita e quantomeno salvare la faccia via si fa male tanto per continuare con le buone notizie facendo un passaggio si fa male pure di A ragazzi siamo siamo spacciati Tonani la alza verso Rebic contro Olivera regge Rebic tutti i contrasti poi Olivera decide di spazzare scelta più saggia di A non si regge i piedi invece facciamo fallo maggiore verso nessuno praticamente un pallone a metà tanto però Calulu perde palla destro ex tra l'altro Dia un pallone una scivolata ragazzi è stata assurda credo di Giorginio Tonani non abbiamo presa nemmeno questa 4-0 per il Milan in casa nostra manifesta superiorità non abbiamo potuto nulla 8-8 ma decisamente i precisi nostri di Giorginio la società chiaramente che non aumenta con una sconfitta società che non nutre fiducia con noi con questa sconfitta maggiormente si riusciva di pulire i risultati che prima o poi doveva finire dobbiamo reagire sicuramente ci rifaremo abbiamo perso entrambi gli scontri col Milan si è andata a essere ritorno ma non siamo ancora a livello del Milan e avanziamo c'è il Napoli derby non ci arriviamo sicuramente in un buon momento classifica che ci tiene sempre a 14 di posto a meno 3 dal Sassuolo dodicesimo e a meno 8 addirittura dal Monza conferenza stampa magari motiviamo maggiormente i nostri grazie a tutti per essere intervenuti possiamo dare inizio alla conferenza stampa vogliamo vincere di nuovo non sarà facile ragazzi però dobbiamo provarci vi dico che una partita come le altre dire che siamo pronti oddio dobbiamo fare meglio sicuramente squadra quasi al 100% come al solito qualcuno con la velocità bassa Napoli con Carson Martial Politano Ziris di Zambokisa Musiala a caso Mario Lui Gesus credo Juan Gesus Kimi Zambia Zambia Sirico il nostro ex Zambia però credo sia una formazione da turnover perché Sirico titolare qua Gesù titolare quindi un po' di turnover per il Napoli che ci sottovaluta e allora gli daremo una lezione ma altra squadra ragazzi che assolutamente non è facile da battere ci siamo ragazzi i giocatori del Napoli che palleggiano derby ragazzi siamo allo staglio di Germano Maradona Marziale batte il Napoli e siamo partiti Politano cerca di superare Oliveira senza successo ex da una parte Oliveira dall'altra Zambia ancora Oliveira che lotta proprio contro Zambia alla meglio ex Napoli colpito Kimi già ma c'è ancora Piontek va fino in fondo Piontek la palla è bassa non ci arriva nessuno Maggiure li mette dentro il nostro Mario Rui allontana occhio a Ribéry la sposta sul destro a giro e dopo 7 minuti siamo in vantaggio Frank Ribéry il frero che gol stop tutto il tempo di metterla sul destro e poi il destro a giro in suo marchio di fabbrica vediamo il capitano come la mette alle spalle di Siru che non può nulla siamo in vantaggio dopo 7 minuti e questa queste sono quelle partite ragazzi che dimostriamo di essere una grande squadra e quindi non mi spiego come sia possibile poi che facciamo quelle brutte figure la partita è lunga quindi non ci montiamo la testa ma siamo partiti comunque con il Pio giusto occhio a Ribéry ancora il drambo chissa però Mario Rui allontana Carson Bamba allontana Piontech supera tutti o quasi Piontech se ne allunga ancora si allarga però mette il cross col destro ancora il freno che però non è tanto altro ancora Piontech però sinistro compisce Quangheus Usiala questo top da parte di Napoli Carson rimanuto da Mazzotti che però la butta fuori Mario Rui verso Carson Juan Jesus lunga verso Carson che stoppa supera facilmente in Bamba Martial Ochoa ma irresistibile questo tiro poteva anche bloccarlo Pulitano al corner dentro il cross grande parata di Ochoa allontaniamo Zienischi però ancora Zienischi desterno testa ancora Ochoa Napoli adesso ragazzi si è svegliato Ochoa esce dal corner la palla è sua per ripartire velocemente con Olivera a Ochoa a Ochoa che la regala Museala non giochi più con loro Martial chiuso due volte da Mamba bravissima maggiore verso Piontek che ha visto di A attenzione di A uno contro uno uno contro uno di A pallonetto Pallafuri mamma mia ragazzi ci stava ci stava il pallonetto perché è uscito a valanga Sirico ma la palla è uscita di un soffro Miretti qui stroppa il pallone cerca di anticipare i tempi con un cross basso eh però vi ho che si fa anticipare Martial tira una larga a Mamba che poi è un pallaccio occhio a Tanghissa che allunga la falcata ma c'è Fazio sai che Mamba ragazzi si prende una munizione ha preso fermo il gioco il chiappolitano ancora Olivera scambia con il frero Liberi non lancia Olivera contro Kim eh lo anticipo ragazzi Sambia next grazie Sambia non giochi più con noi Piontek Miretti all'esterno la parata di Sirico è morito Mamba me l'aspettavo angolo per noi Olivera la forte sul primo Carson allontana Liberi Miretti ancora Fazio che tiene alla larga Musial Fazio ancora Fazio cerca di fare un'azione in solitaria premato da Sambia che con noi queste chiusure non le faceva Sambia sbaglia maggiore palla dentro verso Piontek e qua lo firma Fazio di testa niente Marzial prima di lui Aghissa addosso a Fazio palla verso Miretti d'esterno che palla verso Dia al 39 Dia su assist di Miretti che assist ragazzi ma anche che gol da parte di Dia che fa vedere il 29 solo maglia ripetiamolo ragazzi d'esterno stop di Dia che tiene alla larga Kim Injae spara sotto l'incrocio abbiamo degli sprazi ragazzi da top club proprio Musiala Matteo Politano ancora Musiala che ha scambiato con Politano Politano sbaglia c'è Olivera Lex col dente avvenenato Olivera finta Olivera si accentra e prova il fare shot firmato da Kim poi ancora Dia che lotta è ancora alla larga Kim col sinistro palo esterno ma è impossibile segnare da lì via per anticipare Kim la butta direttente furia anzi Anghissa e non Kim Carson ma nel lui è finito il primo tempo siamo 2-0 in trasferta in trasferta cambi non ne faccio per il momento e riprendiamo il secondo tempo noi alla battuta e abbiamo ricominciato ragazzi Piontek verso Maggiore cioè verso Mazzocchi scusate che la perde però Carson Carson spinto Carson uno contro uno spara addosso c'ho Minetti motore di un grande assist per il secondo gol Piontek prova ad alzarla via non riesce a stopparla bene poi prova a recuperarla ma niente da fare Kim lunga verso Pulitano la stoppa prova a superare Olivera la dà dentro verso Sambia Sambia ancora ma c'è Bamba Maggiore contropiede buona la palla verso Piontek 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 pum 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 ma anche lui che firma il 3 a 0 al 53 rivediamolo non lo firma nessuno e poi incrocia col destro e non prendo una sigla 3 a 0 ragazzi tra poco dobbiamo pensare a qualche cambio perché la partita sembra ormai indirizzata Minetti ancora un anticipo penso che quando tornerà a casa dalla tasca si toglierà nei chiavi sicuramente il portafogli ma anche tutto il Napoli toglierà dalle tasche perché veramente è una partita magistrale da parte del nostro centrocampista che ha dimostrato che può essere un titolare dia perde il pallone Musiala avanza occhio supera tutti Musiala Musiala Occiola ancora palla dentro ancora però Sambia Sambia mamma mia ci perdona ancora l'ex Sambia ma io voglio fare dei cambi perché mamma a questo a questa munizione che gli gli pesa Olivera non ce la fa più quindi dentro Bradaric dentro Colpani al posto di Minetti che ha fatto la partita assurda dentro anche che andrebbe al posto di Ribery spreco tutti e cinque i cambi perché entra anche destro anzi no entra Bonazzoli al posto di Piontek che ci può dare un po' più di velocità a destro assolutamente un acquisto sbagliato fino ad adesso non mi ha convinto per niente cinque cambi effettuati e un gioco riparte da Radovanovic che è appena entrato che va a lungo verso Bonazzoli c'è Kim che però andrà verso qua Jesus Aghissa che vuole superare Pereira con la poggia pulita l'ha ancora Aghissa non supera Bradaric Pereira esterno anche lui ma c'è il fuorigioco non c'ho lungo a cercare Carson c'è Mazzocchi che la tiene anche in campo finta manda al bar Carson col pani qui si che mi ha convinto fino ad adesso la palla verso Bonazzoli che la perde però Marzialla occhio l'ottima palla per Raspadori Raspadori cucchiaio 60 lo visivo pareggio del Napoli ma che pareggio Giacomo Raspadori brucia un gioco con questo cucchiaio guardate sinistro destro chiaramente Adocioa non l'ho fatto uscire è uscito da solo e 3-1 per il Napoli complimenti siamo al settantesimo minuto Bonazzoli va da solo però primo gol in sei partite ovviamente contro di noi Bonazzoli dentro rovesciato di D.A ma non è da fare col pani che andreva col sinistro Sirico ex compagni di Nazionale ma il Tucumano Pereira dal corner niente da fare Maggiure Tucumano dentro niente da fare Maggiure Bonazzoni niente da fare qua Jesus bravissimo di A verso Maggiure c'è il fuorigioco fischiato dopo un bel po' di tempo si riguarda invio Marzial però non stop bene la palla è verso D.A che prova il tiro di potenza colpisce Kim occhio a Carson bravissimo Radovano fa prevalere il fisico però Kim fa prevalere anche il suo Politano adesso Juan Jesus che la perde sull'attacco di Pereira occhio che siamo in superiorità D.A 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 col destro spacca la porta all'ottantonesimo c'è la doppietta di D.A e non poteva sbagliare eravamo in superiorità se la porta D.A arriva davanti a Siric non lo perdona 4-1 per noi all'ottantonesimo diciamo capire che oggi c'è stata solo una squadra in campo Raspadori sta provando degli spunti interessanti 15 con 25 partite eh ragazzi teniamo d'occhio anche lo score di D.A colpani nota con tutti risuperà colpani dentro eh ci arriva la Siric colpani ragazzi per me acquisto top Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara Candreva lo stop e il tiro di potenza mamma mia a lato di un soffio c'entra a posto di Carson Domene Domene alla alla sinistra completamente a casa è entrata anche Ortega non conosco Martial verso Ortega mi sembra però venuce eh attenzione dentro bassa Bratalec prima di Raspadori poi la perde va da fuori Osho va a lungo senza pronzoli e senza rischiare Bonazzoli prima di Kim ovviamente maggiore lunga ancora cercare Bonazzoli c'è ancora Kim però è finita è finita 4-1 derby vinto in trasferta iscrivetevi lasciate un mi piace e continuate a supportarmi forza serenità e ci vediamo nel prossimo video ciao